Dalla consulenza fiscale al panorama del capital market, dall'ambito del lavoro al settore bancario, dall'assicurativo all'ingegneria meccanica. Sono queste alcune delle categorie del libro d'oro top 50 di Le Fonti, la raccolta esclusiva in formato cartaceo e digitale che giunta alla sua quinta edizione racchiude le eccellenze del mondo legale, professionale e imprenditoriale che si sono distinte per i traguardi raggiunti, per la rilevanza delle operazioni e dei casi eseguiti e per gli ambiziosi progetti messi in campo. Nella categoria mondo legale e professionale a distinguersi sono stati, fra gli altri, lo studio Gullì con Tina Gullì nel settore della consulenza fiscale, LS Lexus Sinacta con Gianluigi Serafini nel capital market e lo studio legale Andrea Prosperi con l'avvocato Giuseppe Trischitta nel settore del risarcimento danni. Per la categoria imprese e professionisti a distinguersi sono stati, fra gli altri, General Italia con Cristina Rustignoli nel settore assicurativo, investimenti e finanza merchant con Giuseppe Ursi nel banking and finance, Progest con Luca Capece nella sicurezza ambientale, Alfa General Contractor con Antonio Politano e Asmagasem nel settore General Contractor. Per conoscere i volti, le storie e i progetti di queste eccellenze vi invitiamo a sfogliare la coppia digitale all'interno del nostro sito Le Fonti Legal e dei nostri canali digitali. Se volete partecipare alla prossima edizione inviate la vostra candidatura a press-lefonti.it